Benvenuti a Anastasia Fezzi della Fondazione Europea, benvenuti qui. Parliamo di questa importante agenzia europea che è qui in Torino. Sì, come hai detto, la Fondazione Europea è in Torino, in Vila Gualino. Siamo stavolati 20 anni fa, quindi siamo già abbastanza maturi in ciò che facciamo. Per dire alcuni di cose sui cosa la Fondazione è facendo, siamo un agenzio dell'Unione Europea e stiamo lavorando con i paesi europei, per aiutare i migliori dei loro persone, per sviluppare le sceglie, le competenze e promuovere il sviluppo economico. Quindi, è parte del nostro lavoro di lavorare con le sceglie per l'entrepreneurismo e le sceglie per il sviluppo delle sceglie piccole e migliori. Per questo, lavoriamo con le autorità pubblici, anche con il settore privato e sicuramente con le famiglie di commercio nei nostri paesi europei. Ok, quindi la Fondazione Europea supporta la WCC e quali sono le ragioni che hai deciso di supportare il congresso? Sì, come ho detto prima, per noi è molto importante aiutare i nostri paesi europei a sviluppare le sceglie per le sceglie per le sceglie e le sceglie per l'entrepreneurismo e per l'entrepreneurismo. Abbiamo lavorato molto suportando l'entrepreneurismo delle persone e le donne. In questo evento abbiamo una sessione per l'entrepreneurismo e l'importante elemento che sarà discusso, il foco sarà in modo da mettere insieme il training e l'accesso alla finanza per aiutare le sceglie le persone che sceglie e le sceglie le loro business. Per noi è stata un'unica opportunità di essere qui, insieme con le famiglie di tutto il mondo per identificare, insieme con l'internazionale della Chiamera del Commercio, esempi di buona pratica all'interno del mondo. Abbiamo trovato un esempio da Gambia, buona pratica da Gambia, da Bielgia e da Georgia. E la idea di questa session è di dimostrare le diverse soluzioni, la diversità di soluzioni che existono per adresare l'entrepreneurismo di attrazione e l'accesso alla finanza. E anche come si tratta con il contesto nazionale e culturale. È extremamente importante di prendere questo in mente. Perfetto. La agenzia è basata in Torino. Tu vivi in Torino, ma non sei da Torino. Quali sono le vostre impressione? Quali è la vita della nostra città? Per me Torino è la mia città. Questa è la mia città. Dopo 20 anni. In fact, sono arrivato molto presto. Quando la fondazione è stata stabilita è stata davvero una città. Ok. Non sto dicendo questo a te, perché sei da Torino, perché siamo in Torino oggi, ma perché c'è questa dimensione humana di Torino. È una città di dimensioni humana. E anche una città che ha dimostrato che ha dimostrato molto l'entrepreneurismo che sta cambiando, come abbiamo visto in ultimi 20 anni. E, ovviamente, se chiedi i miei colleghi nella fondazione, ci saranno la stessa cosa. Ci sono piaciuto lavorare e vivere in Torino. Ok. Grazie mille e grazie per il supporto del congress. Grazie. Grazie.